Adesso ti trasformi davanti a lui, vediamo cosa dice Vai Gio, faglielo vedere un attimo No, vai a bocca mia No, Luca, mi sa che non c'è bisogno Il tipo si sta disconnettendo Si stava disconnettendo Gio No, perché Giovanni ha fatto la rotolata due volte L'ha schiacciato per terra due volte Era fermo perché si stava andando a disconnettere Non voleva farsi uccidere